Cari fratelli e sorelle, non vi nascondo la mia preoccupazione di fronte ai segni di intolleranza, discriminazione e xenofobia che si riscontrano in diverse regioni d'Europa. Esse sono spesso motivate dalla diffidenza e dal timore verso l'altro e diverso lo straniero. Il Papa guarda con preoccupazione a quanto sta accadendo nel vecchio continente sul fronte dell'accoglienza di migranti e rifugiati. Un disagio, dice Francesco, in parte giustificabile per la portata dei flussi migratori, ma indicativo anche delle reali difficoltà e dei limiti dei processi di unificazione europea. Mi preoccupa ancora più la triste constatazione che le nostre comunità cattoliche in Europa non sono essenti da queste reazioni di difesa e rigetto, giustificate da un non meglio specificato dovere morale di conservare l'identità culturale e religiosa originaria. Il Papa non cita nessuna nazione, ma sembra chiaro il riferimento a Polonia e Ungheria che malgrado la loro storia e vocazione cristiana hanno chiuso le porte non accettando il ricollocamento dei migranti e lasciando così sole Italia e Grecia. Certo, il Papa riconosce che i flussi migratori complessi e variegati hanno messo in crisi le politiche migratorie, ma proprio per questo occorre lavorare tutti insieme. Nella storia della Chiesa non sono mancate tentazioni di esclusivismo e arroncatamento culturale ma lo Spirito Santo ci ha sempre aiutato a superarle, garantendo una costante apertura verso l'altro considerata come una concreta possibilità di crescita e di arricchimento. Quante volte, aggiunge Francesco, l'arrivo di nuovi fratelli e sorelle di fede cristiana ha arricchito le comunità locali, stanche ed emotivate. Ma anche dal punto di vista missionario, i flussi migratori contemporanei costituiscono una nuova frontiera, una occasione privilegiata di annunciare Gesù e il Vangelo senza dimenticare che... La Chiesa si è diffusa in tutti i continenti grazie alle migrazioni. Migrazioni di missionari che erano convinti della universalità del messaggio di salvezza di Gesù Cristo. M